Noi cominciamo invece questa puntata parlando di sicurezza sul lavoro, che è un tema molto molto importante perché purtroppo sono ancora sempre troppi gli incidenti sul lavoro, anche nel nostro paese. Pur essendo un paese avanzato, con molte tutele, c'è ancora da fare. Allora, ne parliamo con Gennaro Gadi, Direttore Generale per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Benvenuto, Agheo. Buonasera, grazie. Eccoci qua. Allora, è un tema troppo importante. Il contrasto agli infortuni è una priorità per l'agenda politica del governo. Allora, intanto, Dottor Gadi, qual è la situazione a oggi? Quanti sono gli incidenti del lavoro? Sì, purtroppo il bilancio è drammatico. Nel 2022 si sono registrati 1.090 morti, quindi con una media quasi di 3 morti al giorno. E nonostante ci sia stato un piccolo decremento rispetto agli anni precedenti, ad esempio rispetto al 2021 ci sono stati meno 131 morti e 180 rispetto al 2020, purtroppo la strada che dobbiamo percorrere non è ancora quella giusta, evidentemente. Eh no, certo, comunque è abbastanza... Perché sì, ci allontaniamo molto da quell'obiettivo che è europeo e che è stato richiamato più volte dal Presidente della Repubblica di zero morti sul lavoro, quindi diventa molto difficile. Sono aumentati, ad esempio, gli incidenti in itinera nel 2022, cioè quelli che capitano durante il percorso casa-lavoro e lavoro-casa, mentre quelli in occasione di lavoro invece sono diminuiti. L'incremento maggiore l'hanno avuto, oltre che i lavoratori purtroppo comunitari ed extracomunitari, gli under 20 e la fascia d'età 25-39. I motivi ovviamente possono essere tanti, per quanto riguarda i giovani sicuramente può essere ricercato nel rapporto che c'è tra le offerte di lavoro, la precarietà e quindi l'infortunio, perché ovviamente più breve il periodo di lavoro, meno si concilia questo con l'esigenza formativa che hanno i giovani, perché devono conoscere l'attività lavorativa, i pericoli e i rischi che da questa possono discendere. E quindi forse la conoscenza del rischio è la cosa fondamentale, perché varia ovviamente dall'agricoltura, che può essere appunto dovuta alla conformazione del terreno e quindi gli incidenti con le macchine, oppure ad esempio le macchine, oppure l'edilizia e le cadute dall'alto, oppure il pericolo delle scosse elettriche, oppure i tempi di guida per quanto riguarda i trasporti o il carico e scarico delle merci. Quindi ogni settore ha le sue peculiarità, però ovviamente la cosa da fare è quella di attuare, investire in prevenzione, cosa che a volte appunto le aziende non fanno e quindi è una scelta sbagliata, perché ovviamente si mette a repentaglio e in pericolo la vita delle persone. In cosa consiste il piano strategico di prevenzione degli infortuni che il governo sta mettendo a prendere? Sì, il ministro del lavoro ha adottato l'atto di indirizzo, che non altro che un documento con cui individua le priorità dell'amministrazione e non altro che una declinazione del programma di governo. È un programma che si fonda su controlli, sanzioni e formazione e in armonia peraltro con l'Unione Europea, che nel piano strategico 2021-2027 ha messo proprio al centro dell'attenzione di tutte le parti coinvolte, quindi dalle istituzioni alle parti sociali, datori di lavoro ai lavoratori, la prevenzione, quindi l'importanza della prevenzione, attraverso tre parole chiave che sono appunto il cambiamento, la prevenzione e la preparazione che sarebbe la formazione. Questo piano è soprattutto fare più controlli e questo è possibile perché appunto c'è stato un ampliamento dei poteri degli ispettori del lavoro nella salute e sicurezza che prima era limitata al settore dell'edilizia e quindi tutto il resto veniva fatto dagli ispettori delle ASLA. Invece adesso potendo fare tutto quindi possono aumentare sicuramente e poi bisogna applicare le sanzioni attraverso appunto un'effettività della norma, deve essere applicato, il testo unico, abbiamo una norma molto importante nel nostro paese e poi appunto la formazione che è fondamentale. Per quanto riguarda i controlli, il Ministro si è impegnato a realizzare il SIMP, che è un sistema informativo di prevenzione che addirittura dal 2008 non è stato mai realizzato. Informativo? Sì, è tenuto dall'Inel, dal 2008 non è stato realizzato e adesso stiamo realizzando una sezione dedicata proprio allo scambio dati tra ispettori del lavoro e sistema regioni in modo tale da evitare la duplicazione delle ispezioni. Certo. E parliamo degli studenti sull'alternanza scuola-lavoro, anche lì c'è stato in passato un problema, lei mi diceva che comunque c'è una fascia di giovani appunto che magari non è formata adeguatamente che rischia di più. Che cosa, che interventi specifici sono previsti? Sì, per quanto riguarda in particolare l'alternanza scuola-lavoro è stato siglato un protocollo d'intesa tra il Ministro del Lavoro, il Ministro dell'Istruzione, l'INAIL e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per fornire un supporto a tutti i soggetti coinvolti, quindi i dirigenti scolastici, gli studenti, gli insegnanti ma anche i cosiddetti soggetti ospitanti che sono quelle aziende che si rendono disponibili per appunto ospitare questi ragazzi e farli entrare in un certo qual modo nel mondo del lavoro, farli comprendere e osservare quello che succede nel mondo del lavoro. A tal proposito, proprio in attuazione di questo protocollo, stiamo organizzando il 30 maggio una giornata sperimentale di sensibilizzazione della cultura, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro presso un istituto tecnico di Roma, dove oltre a illustrare brevemente le norme perché non deve essere noioso, ovviamente deve essere utilizzato un linguaggio adatto ai ragazzi, ci saranno anche delle testimonianze di persone che purtroppo hanno subito un incidente sul lavoro e che sono state messe a disposizione dall'Associazione dell'ANMIL, l'Associazione Nazionale Mutilate e Invalidi sul Lavoro per appunto rendere più concreto quello che è il... Certo, per comunicare. Sì, esatto. Ecco, e poi credo che forse anche bisogna lavorare molto per sconfiggere il lavoro nero. È il lavoro nero perché è assolutamente collegato, perché manca assolutamente qualsiasi tipo di tutela, perché il lavoro sommerso non esiste quel lavoratore, il datore di lavoro non investirà mai in prevenzione e in formazione, che è fondamentale la formazione, il tassello fondamentale di tutto ciò che è la prevenzione. È la formazione. È la formazione, perché la formazione tende a far acquisire delle competenze al lavoratore che successivamente sarà in grado di individuare rischi... In fondo lo rimettono al centro, no? Sì, sì, al centro, esatto. La persona deve essere messa al centro assolutamente e quindi conoscendo il rischio a cui si va incontro si può anche gestirlo nel momento in cui si verifica, no? E ovviamente la formazione è obbligatoria per tutti i lavoratori e dal 2021 anche per i datori di lavoro. E nella scuola adesso, deve partire dalla scuola ovviamente la formazione, ci sono due proposte di legge che prevedono l'inserimento nella scuola dell'insegnamento del diritto del lavoro e quindi, come diceva, del lavoro regolare e della materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Bene, molto interessante. Grazie. Grazie, eh. Grazie a Gennaro Gaddi, direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali. È stato un piacere. Grazie a tutti.